Salve a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi parliamo di questo qui, un prodotto molto particolare, vedete, è uno spazzolino elettrico, ma non è un qualsiasi spazzolino elettrico, bensì è il primo spazzolino elettrico dotato di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una parola che nel 2018 e il 2019 è stata abusata in maniera assurda, l'abbiamo sentita nei più disparati dispositivi, questa intelligenza artificiale cos'è? Beh, la capacità di uno strumento di interfacciarsi con degli algoritmi, con delle banche dati e capire e adattare il proprio funzionamento a seconda dell'utilizzo, oltre che capire determinati movimenti e contesti. Ma vediamo perché questo spazzolino ha l'intelligenza artificiale, cosa serve e chi dovrebbe spendere i 299€ di listino, anche se già in questo momento è scontato su Amazon a 149,99€ e dopo faremo un bel discorsone anche sul prezzo perché ci sarà molto 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 da parlare. Vediamo innanzitutto come è fatto, io ho avuto modo di provare tutti gli spazzolini top di gamma di Oral-B a partire dal 9000N, quindi ho provato il 9000N, il 10.000N e poi anche questo Genius X, ma ho provato anche il 6000N, il 4000N, il 4500N, l'8000N e tanti tanti altri. Anche la serie per bambini perché me li hanno tutti mandati e quindi ho avuto modo di provarli, anche perché ero curioso di capire perché un 4000N costa 40-50€ e perché un 10.000 Genius X o un 9000N quando sono arrivati sul mercato costassero 300€. Beh, partiamo dalla confezione perché all'interno della confezione c'è lo spazzolino, ovvero il manico e una singola testina, ricordo che nel 10.000N ce n'erano 4 così come anche nel 9000N, poi c'è una pratica custodia per il trasporto in grado di contenere il manico e due testine, sì questo perché tendenzialmente questi spazzolini qua ne comprate uno per tutta la famiglia e poi ogni membro della famiglia andrà a cambiare la testina utilizzata. C'è anche appunto una piccola dock che permette di inserire fino a 4 testine la basetta di ricarica wireless, basetta di ricarica wireless che torna molto comoda, tra l'altro è compatibile con tutti gli spazzolini Oral-B, quindi se avete un 4000N magari che utilizzate in una casa e un 10.000N che utilizzate nell'altra potete sempre utilizzare la stessa basetta di ricarica, non avete bisogno di avere con voi più basi di ricarica. Sentito Fitbit, se fare la stessa basetta di ricarica potrebbe tornare comodo, ma non perdiamoci in chiacchiere, spazzolino che è ovviamente impermeabile, certificato contro acqua e polvere e la base wireless è quella inferiore, poi c'è un bel manico grosso e robusto con un inserto in gomma nella parte posteriore. Feedback sulla durata, beh che dire, io ho il 9000N da 3 anni, poi l'ho sostituito con questo Genius X e l'anno scorso con il 10.000N, comunque funzionano ancora tutti egregiamente. Adesso il 9000N me lo porto quando viaggio, mentre questi li utilizzo insomma nelle case e non ho riscontrato difetti. L'unica accortezza per farli durare è quella di pulirli abbastanza spesso, essendo prodotti sanitari tra virgolette tendono a sporcarsi, comunque ad avere piccoli residui di calcare, piccoli residui di sporco, quindi magari usate delle salviettine disinfettanti oppure un prodotto assolutamente non aggressivo per pulire tutti i piccoli inserti, soprattutto fate attenzione all'inserimento alla testina, cioè al posto dove inserirete la testina perché qui se avete abitato in un posto dove l'acqua è molto calcarea ci saranno dei residui di calcare, sono queste le piccole accortezze da prendere affinché questo spazzolino duri diversi anni. La batteria ha una durata di circa una settimana, bene o male l'ho caricata una volta a settimana, ma se lasciate la base per la ricarica lì, diciamo che una volta ogni 3-4 giorni, quando arriva o quando scende di due tacche, c'è il segnalatore a led qui nella parte anteriore, quando scende di due tacche lo lasciate lì e il giorno dopo lo trovate subito carico. Cosa cambia per esempio tra un 4000N e un 9000-10000 Genius X? Che il 4000N dovete già scegliere quello con la modalità di pulizia che interessa di più a voi, per esempio denti sbiancati, denti delicati o cose del genere. In questo 9000N il motorino è esattamente lo stesso, quello che cambia è che ci sono tutte le modalità di pulizia previste da Oral-B. Modalità di pulizia che ovviamente non me ne ricordo a memoria, c'è pulizia quotidiana che quindi ha una vibrazione non molto intensa, diciamo media. ProClean, pulizia profonda in cui la vibrazione ma anche la rumorosità aumentano così come diminuisce leggermente l'autonomia. Denti sensibili che ha una rotazione, fa vibrare la testina in maniera molto molto delicata, sbiancante, ha un tipo di pulsazioni sempre forte ma diverso rispetto alla ProClean. Poi c'è protezione gengive e netta lingua. Netta lingua è per la pulizia della lingua perché si potete utilizzare questo spazzolino anche per pulire la lingua. Operazione comunque consigliata da tutti i dentisti. Passiamo però al funzionamento. Perché questo spazzolino è smart? Perché è dotato di bluetooth e si connette all'applicazione sul vostro cellulare Android oppure iOS. A cosa serve l'applicazione? Beh, semplicemente una volta che si sincronizza lui memorizza le sessioni di pulizia. Durante lo spazzolamento vibrerà ogni 30 secondi perché ogni intervallo andrà a corrispondere a una diversa arcata. Quindi tendenzialmente io faccio arcata superiore sinistra, superiore destra, inferiore destra, inferiore sinistra. E quindi ogni 30 secondi sentirete una vibrazione sul manico che vi sarà di cambiare arcata. Perché questo? Perché due minuti di spazzolamento è lo spazzolamento, la durata minima per avere una corretta pulizia della bocca. Quindi è quello che vi consiglio. Poi ovviamente siete liberi di spazzolare di più. Questo perché è meglio rispetto a uno spazzolino normale? Perché con uno spazzolino normale tendenzialmente si ha l'abitudine di spazzolare un po' meno rispetto ai due minuti consigliati. Magari arrivate un minuto, un minuto e mezzo, smettete di spazzolare. Con questo avete il cronometro. Io posso dire che mi sono abituato e anche quando le rare volte che mi capita di spazzolarmi con uno spazzolino normale ho in testa il timer e quindi la durata complessiva. Magari non sono preciso secondo però ci azzecco abbastanza. Dopodiché potete cambiare modalità di pulizia tramite il singolo pulsante qui nella parte anteriore e potete accenderlo tramite il pulsante di accensione ovviamente. Cosa fa l'applicazione? Oltre a memorizzare le sessioni di pulizia, quindi memorizza ogni volta che vi lavate i denti per quanto tempo, se ci sono stati pressioni eccessive, quando premete eccessivamente la testina sui denti il led nella parte superiore del collarino si illumina di rosso. Questo è proprio per darvi un impatto visivo e dirvi di dover dispingere di meno sulle gengive e quindi da tutte queste informazioni qua. Se però utilizzate il cellulare con l'applicazione mentre vi lavate i denti, l'intelligenza artificiale è in grado di capire l'orientamento dello spazzolino e quindi di segnare sull'applicazione quale arcata state pulendo e come avete pulito ogni singola zona della vostra bocca. In realtà però questa feature non funziona granché bene, oltre al fatto che io rimango sempre perplesso su operazioni, diciamo marketing di questo tipo qua. Per quanto riguarda il 9000 e il 10000N infatti anche essi erano smart, anche essi avevano il bluetooth, ma avevano una cosa un po' più arzigogolata. Nella confezione includevano un supporto per lo smartphone che dovevate attaccare allo schermo, metterci lo smartphone prima di lavarvi i denti, dopodiché aprire l'applicazione RALB che apriva la fotocamera, mettere il vostro viso in modo che la fotocamera lo riconoscesse e riconoscesse il modo di spazzolare. Adesso tutto questo crocco qua non è più necessario, basta lanciare l'applicazione e iniziare lo spazzolamento, però ho notato che comunque non è così preciso. Cioè magari può capitare che io stia pulendo l'arcata inferiore sinistra e lui riconosca che stia pulendo invece l'inferiore sinistra. Quindi ogni tanto sbarello, ogni tanto non segna correttamente la durata, quindi mi chiedo in realtà stringendo a cosa serve sapere quale arcata stai spazzolando nel momento in cui la stai spazzolando. E' una domanda forse senza risposta, forse sono troppo critico io, forse è una tecnologia che non riesco ad apprezzare, ma sinceramente vedo prettamente inutile spendere così tanti soldi in uno spazzolino solo perché ha l'intelligenza artificiale, perché poi nell'utilizzo quotidiano questa cosa non vi serve a niente. Tanto vale spendere un terzo, una frazione del prezzo in una delle serie inferiori come la 4000N, come la 6000N, come la 8000N, che ripeto hanno lo stesso motorino della vibrazione, quindi la vibrazione e l'esito finale della pulizia sarà esattamente lo stesso, piuttosto che farsi accalappiare da una strategia di comunicazione aggressiva che vorrebbe far intendere questo spazzolino come il più moderno nel mondo in assoluto, e magari lo è anche, ma che poi nell'utilizzo quotidiano si rivela abbastanza inutile, anche perché io sono appassionato di tecnologia e capisco come andrebbe usato, anche se poi non lo faccio perché per me comporta assolutamente una mera perdita di tempo, mentre magari può tornare utile il sapere quante volte in media si spazzolano i denti, in modo che magari, questa è una cosa per i genitori che non vogliono assillare i figli, però sincronizzando lo spazzolino sanno quante volte è stato utilizzato durante il giorno, mi viene un utilizzo così random, però poi nell'uso quotidiano per una persona adulta che compra questo spazzolino, ha il budget per comprarlo e lo utilizza, beh, difficilmente secondo me andrà ogni volta che si deve spazzolare i denti, quindi assumiamo due o tre volte al giorno, aprire l'applicazione, lanciarla, aspettare che si sincronizzi, insomma la vedo un po' come una cosa poco naturale e che verrà trascurata poi nel corso del tempo. Piccola parentesi, non è che gli spazzolini elettrici di per sé puliscono meglio, chi ha una corretta tecnica pulisce bene i denti anche con uno spazzolino manuale, quelli da un euro che vendono al supermercato. Il vantaggio degli spazzolini elettrici qual è? Che con le vibrazioni permettono anche a chi non ha una corretta tecnica di pulizia di andare più in profondità e quindi di avere in media una maggiore igiene dentale, ma non è che di per sé puliscono meglio, diciamo che sopperiscono a chi non sa pulire bene i propri denti. Detto questo, vi consiglio questo spazzolino qui? No, comprate o le serie inferiori o le serie precedenti perché sì, è bello, è tutto quello che volete, però onestamente ha delle feature che nell'uso reale non verranno mai sfruttate, almeno secondo il mio parere, che è quello di un utente come tanti altri. Se l'avete provato però fatemi sapere cosa ne pensate, Genius X, beh, un po' poco Genius, abbastanza smart. Direi io, vi lascio il link comunque qui sotto in descrizione insieme agli altri spazzolini che invece vi consiglio maggiormente. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuto, se volete altri video di prodotti un po' così particolari come questo spazzolino qui e noi come al solito ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao! Ciao!